Siamo nello stand di Oran Frizzer qui a CIBUS 2018, intervistiamo il direttore Nello Hub e chiediamo che novità avete portato a CIBUS, dopo 22 anni e 11 elezioni abbiamo portato le nuove meraviglie della Sicilia, tutte le nuove varietà di arance rosse che sono davvero esplosite, con queste varietà arriveremo fino a giugno, quindi si raffineranno le arance sulle arance di giugno e questa è una novità che non si sceglierà l'anno. Grazie. Oran Frizzer al CIS 2018, oltre a presentare 7 meraviglie, 6 settembre punti della Sicilia, presenta anche una nuova linea di spenute, spenute fatte veramente di spenute di frutta, non di solitamente di frutta, chiamiamo di frutta e ne contiene solo una percentuale, quelli di Oran Frizzer che facciamo di ristare qui, che abbiamo in GTO, sono fatti di sola, spenuta, spenuta, vera, acceduta e attraverso questa nuova linea che sarà all'interno dei polimercati, tutti, dagli sportivi, ai bambini, alle mamme, a chi da cuore, a chi soggiorno, e poi su questa nuova linea potremmo dare una riserva di frutta da tenere sempre, in sé, solo patientemente, risulta essere in modo comodo, in sano, per consumare la frutta tutti i giorni, come se si tratta. Le diamo molto nella sana alimentazione e la leviamo alla frutta della nostra terra, prendendocene qui da tutti i giorni e chiedendo una bella porzione di verde della Sicilia, con le distese di Acumecchi e di tutti i frutti in un campo, questo è il nostro lavoro e lo facciamo qui con un rancurizer da un'altra 50 anni. Grazie.